Cari amici di Reteoro, oggi è una data importante, ricorrono infatti 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi. Alberto Sordi è un po' il simbolo di noi romani, della romanità, ha portato il romano sugli schermi di tutto il mondo. La capitale oggi lo celebra con una serie di avvenimenti che si svolgeranno in diversi luoghi. Noi lo vogliamo ricordare attraverso un video della nostra redazione di qualche anno fa in cui Alberto Sordi racconta se stesso.